L'inserimento della finestra può venire anche dal 3D. Dopo aver selezionato dal menu Disegno l'oggetto architettonico Finestra, occorre cliccare nell'involucro al cui interno si vuole inserire la finestra. Spostandosi potremmo posizionare liberamente la finestra all'interno dell'involucro con l'aggiornamento dinamico delle quote laterali e da terra. Ora, individuata la posizione, occorre effettuare un secondo clic per fissare l'oggetto. Durante l'inserimento da tastiera è possibile definire la distanza da terra, mentre, dopo l'inserimento, è possibile selezionare la distanza da modificare e digitare il nuovo valore. La finestra viene così riposizionata.